buona giornata ci accompagna sempre la settimana santa in questo in questo giorno sottolineando proprio che nessuno agli occhi di dio è condannato nessuno agli occhi di dio è lasciato diciamo così vuoto a rendere lasciato perdere anche se forse in questo momento ti consideri distante ti consideri lontano ti consideri fuori no il signore anzi la presenza di gesù accoglie accoglie tutti possiamo combinarne di tutti i colori ma non perdiamo la dignità di essere tuoi signore lo è stato anche per giuda è vero però forse non ha risposto a questa accoglienza però lo possiamo fare lo possiamo fare tutti noi allora che questa dignità che ognuno di noi ha sia motivo di lode e di ringraziamento anche è attraverso le cose che non vanno o che le riteniamo tali il signore ti illumina e ti benedica buona giornata grazie a tutti